Mancano circa 50 giorni ed è tempo di entrare nel periodo più importante per i rimastri cartai, gli organizzatori, per le scuole di ballo, per tutto il mondo che gravita attorno alla 48esima edizione del Carnevale di Agropoli. Diversi gli appuntamenti previsti per uno degli eventi più attesi dai cittadini di Agropoli non solo. Domenica 3 marzo si terrà la prima sfilata di Carrelle categorici. Martedì 5 marzo invece è prevista la sfilata finale. Ad arricchire ulteriormente la 48esima edizione del Carnevale agropolese ci saranno l'animazione carnevalesca per i bambini in piazza Vittorio Veneto in programma domenica 17 febbraio. La domenica successiva giorno 24 febbraio è prevista invece una goliardica corsa non competitiva da svolgersi in maschera sia per grandi che per bambini. 1 e 2 marzo invece sfilata in maschera per i bambini tra scherzi, coriandoli e balli. Sabato 2 marzo in programma la corrida di Agropoli con tantissimi talenti allo sbaraglio. Una simpatica manifestazione che ha avuto grande successo nel corso delle ultime edizioni. Infine lunedì 4 marzo è prevista la prima azione dei disegni di Carnevale realizzati dagli ultimi tre classi delle scuole elementari della scuola media. Nel corso delle passate edizioni si sono registrati numeri da capogiro in termini di presenza in occasione della manifestazione. Migliaia le persone che ogni anno affollano le strade cittadine per assistere alla manifestazione che ormai da quasi mezzo secolo in coronagropoli quale capitale del Carnevale del Cilento. Tanti cari preparati da mastri cartapestai che dopo mesi di duro lavoro mostrano orgogliosi al grande pubblico intervenuto il frutto della loro creatività e passione e ogni anno il risultato è sempre migliore.